L'associazione Puliamo Corato e l'associazione degli imprenditori sta facendo questo lavoro che non è un lavoro estemporaneo ma stanno programmando una serie di attività in questo senso. Per cui oggi a Corato dobbiamo essere doppiamente orgogliosi perché sta scendendo in campo anche la classe imprenditoriale che sappiamo tutti che svolge questo ruolo importante non solo nell'ambito delle loro attività ma anche a livello di diffusione di legalità. Le imprese rappresentano la responsabilità sociale che ognuno di noi deve avere. L'attività che oggi facciamo è un'attività per il bene, per l'amore e per il proprio Paese. Quindi facciamo tutto ciò per risollevare un attimino quello che altri in maniera poco consona fanno per il Paese. Noi imprese siamo vicini a questa attività, siamo orgogliosi di poter partecipare ad un'iniziativa del genere perché siamo parte e integrante della comunità. Ciao, è una giornata bellissima ed è ancora più bello stare qui con i ragazzi, gli alunni dell'Oriani Tandoi. Sono piccole cose ma possono seminare tanto. Fatelo tutti, tutti i ragazzi delle superiori. Vi vogliamo vedere a raccogliere e a dare l'esempio. Sì, abbiamo aderito con grande piacere all'invito dell'AEC e dell'associazione Puliamo Corato perché riteniamo che comunque impegnarci nel sociale a 360 gradi anche con l'associazione sportiva sia qualcosa di utile alla comunità. Quindi siamo felici questa mattina di far parte di questa grande pulizia della periferia di Corato e con tutti i ragazzi ovviamente invitiamo i coratini e non a non sporcare.